Uhuh! Allora, quello è l'abelisco di Pezzetta. Sì, no, anche con le grandine di... Le gamine? Sì. Ah, che glielo è in griglia. Ma quello è il bestie, il bestie è il bestie. Sì, come sa, come sa. Quando ci stai, però, si dice, si vede sulla salita. Sì, la salita. E' notato che tutto ciò non basta. Sì. Sì. Sì, siamo qui. Sì, è qui.